Moltissime persone mi hanno fatto in passato delle domande relative all'exchange centralizzato di OKEx Ma OKEx è affidabile o su OKEx è sicuro fare trading sui futures? In questo video voglio fare una panoramica generale proprio relativa all'exchange centralizzato di OKEx stesso Inoltre voglio approfondire le varie sezioni in video dedicati che metterò sulla stessa playlist proprio qui su YouTube Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come abbiamo visto nell'intro in questo video andremo a fare una panoramica generale proprio sulle funzionalità principali che offre OKEx al mercato delle criptovalute Comunque non ti preoccupare perché qui sotto proprio sulla timeline del video stesso metterò le varie sezioni in modo che tu puoi schippare se appunto sei interessato più ad un argomento rispetto ad un altro Rimani fino alla fine di questo video perché OKEx ha dato la possibilità di avere dei bonus aggiuntivi per chi si iscrive attraverso i link che lascio qui sotto in descrizione Prima di andare a vedere tutto nei dettagli vi chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso Hai fatto? Perfetto, allora direi che possiamo cominciare Benissimo, partiamo innanzitutto dal sito ufficiale che è okex.com Comunque vi lascio qui sotto il link in descrizione per iscrivervi gratuitamente e ricevere vari benefici Ma a questo poi ne andremo a parlare alla fine di questo video Che cos'è OKEx? Innanzitutto OKEx è un exchange centralizzato, è uno dei più vecchi, infatti ha fatto il rebrand da pochissimo Inizialmente si chiamava OKEx, adesso ha eliminato la E e si chiama soltanto OKEx Al di là di questo piccolo rebrand è uno dei più importanti e più affermati exchange che abbiamo attualmente in circolazione Come possiamo vedere è sponsor ufficiale del Manchester City e della McLaren Formula 1 Team Infatti qui sotto se scorriamo abbiamo vari video relativi anche a spot pubblicitari Sia per quanto riguarda il mondo del calcio che per quanto riguarda il mondo della Formula 1 Logicamente come ogni exchange centralizzato che si rispetti ha una app attraverso il quale possiamo andare ad operare Proprio sul mercato delle criptovalute Dove offre sia una visuale light sia una versione pro Per chi appunto fa trading attivamente già anche attraverso il cellulare Comunque sappiamo benissimo che almeno possiamo in mobilità modificare stop loss Aprire delle posizioni proprio in live anche utilizzando il nostro smartphone Ma è anche un ponte di accesso per quanto riguarda il web 3 Infatti ci dà attraverso il marketplace Integrato proprio attraverso l'applicazione, la sezione dell'applicazione ufficiale Ci dà anche addirittura un exchange decentralizzato Per andare ad operare in completa autonomia Attraverso proprio il portafoglio decentralizzato Ufficiale proprio di OKEX Ma questo lo andremo a vedere in un prossimo video Perché è un argomento che soltanto quello prenderebbe Minimo minimo 15-20 minuti E infatti in questo video voglio andare a fare una paramamica generale Innanzitutto vediamo un attimino la liquidità Perché sappiamo benissimo quando andiamo ad operare proprio nel mercato delle criptolute E non, ma questo vale appunto anche quando noi operiamo all'interno del mercato tradizionale La liquidità è essenziale Infatti un mercato poco liquido, un exchange poco liquido Ha pochissimo senso usarlo Anzi i rischi aumentano notevolmente Se noi andiamo su Coinglass Che ovviamente è un'applicazione Un servizio esterno proprio ad OKEX Possiamo vedere che per quanto riguarda il BTC Futures Open Interest Che è l'Open Interest per quanto riguarda l'asset di BTC Nel mercato appunto dei Futures Possiamo vedere che è secondo a livello di volume Infatti l'Open Interest nel momento in cui sto registrando Corrisponde a 2,48 miliardi Possiamo vedere che è secondo soltanto al reincontrastato che è Binance Moltissimi di voi si potrebbero chiedere Perché mai io dovrei andare a utilizzare un altro exchange Che non sia Binance Molto semplicemente perché ragazzi La diversificazione è alla base di ogni investimento consapevole Se crollasse Binance Logicamente noi perderemo soltanto una piccola parte del nostro capitale Perché lo abbiamo sparso per vari exchange Ok? So che può essere scomodo Però ragazzi a lungo andare Un atteggiamento del genere sicuramente vi ripagherà Comunque possiamo vedere che questa è una metrica Che cambia giorno a giorno però per quanto riguarda sia i Futures su BTC Sia per quanto riguarda ETH, Litecoin eccetera eccetera Possiamo vedere che OKEX è secondo soltanto a Binance Torniamo sul sito ufficiale Andiamo a vedere cosa offre nel dettaglio proprio OKEX Ai clienti retail quali siamo noi Allora ci dà ovviamente la possibilità di cambiare Switchare sia la currency di riferimento Infatti ci dà il rublo, Japanese yen, euro eccetera eccetera Ma ci dà la possibilità anche di settare la nostra lingua Ovviamente noi siamo in Italia Quindi farò una panoramica per quanto riguarda il mercato italiano E la lingua italiana della piattaforma di OKEX Allora la prima sezione acquista criptovaluta Abbiamo la possibilità di andare ad acquistare in pratica le criptovalute Utilizzando vari circuiti di pagamento tradizionali Infatti possiamo vedere Visa, Mastercard, Apple Pay E altri 117 praticamente processori di pagamento sono contemplati Abbiamo appunto la possibilità di acquistare tramite euro O qualunque altra criptovaluta Infatti ce ne è veramente quasi tutte a livello mondiale Per acquistare direttamente o USDT o altri asset Infatti facendo così seguiamo tutta la procedura eccetera eccetera Abbiamo anche la possibilità viceversa Se vogliamo andare a vendere dei BTC Perché magari abbiamo fatto profitto E trasferirli in euro Abbiamo la possibilità di farlo attraverso questa sezione Andiamo sul trading peer-to-peer Ovvero P2P In pratica il trading peer-to-peer ci mette in contatto In modo decentralizzato E più o meno anonimo Prendendo un po' con le pinze il discorso anonimo appunto Con altri utenti Per andare appunto a comprare o vendere determinati asset Infatti se noi per esempio Vogliamo andare a comprare tramite trading peer-to-peer Non so USDT Mettendo la cifra Qui possiamo mettere 1000 euro E qui possiamo scegliere vari tipi di pagamenti Possiamo appunto settare trasferimento bancario Sepa Instant Swift 365 Bank E varie banche che noi possiamo utilizzare Per andare a comprare proprio direttamente dall'utente finale Possiamo appunto usare la piattaforma di interscambio di OKEx Stessa cosa appunto se vogliamo andare a vendere Soltanto che dobbiamo cliccare su lo switch vendi Poi c'è il pagamento di terze parti Infatti noi abbiamo la possibilità di utilizzare Banksa, Mercurio, Moonpay e Adibu Cash Per ottenere in pratica da euro O comunque qualsiasi moneta fiat qui contemplata Ma se state guardando appunto il video in italiano Presumo che voi utilizzate come moneta principale appunto l'euro Per andare a ricevere una determinata criptovaluta Poi ovviamente qui abbiamo una sezione scopri Dove possiamo andare a vedere varie analisi relative proprio ai mercati O comunque sia varie metriche Infatti possiamo vedere qui Ci dà un po' una visuale su come sta andando il mercato Nelle ultime 24 ore Infatti possiamo vedere che nell'ultimo 24 ore il BTC è salito eccetera eccetera Poi possiamo andare a filtrare per varie tipologie Proprio infatti blockchain, layer 2, game file eccetera eccetera Ci dà una sezione sempre nella sezione scopri opportunità Dove ci fa vedere i popular Ciò vuol dire gli asset ricercati all'interno della piattaforma di OKEx Gli asset di tendenza, i nuovi listati eccetera eccetera ok Ma andiamo ed entriamo nel vivo di questo video Infatti OKEx è famosissimo Perché dà la possibilità di avere tantissime features Per andare a operare proprio sul mercato delle criptovalute Infatti ovviamente abbiamo la possibilità di convertire i nostri asset Un po' come se abbiamo magari fatto profitto su BTC Vogliamo andare a scambiarli su una stablecoin in attesa di riacquistare Ad un'opportunità migliore di mercato Infatti possiamo scambiare addirittura cliccando su stablecoin Le varie stablecoin perché magari vogliamo diversificare anche da questo punto di vista Poi sempre nella sezione trading possiamo andare ad operare spot al mercato Cosa vuol dire andare ad operare spot al mercato? Vuol dire andare a comprare l'asset uno ad uno Senza utilizzare la leva infatti non andiamo a comprare un derivato Ma proprio l'asset stesso Infatti se noi vogliamo acquistare per esempio un BTC Noi andremo ad ottenere ed acquistare proprio un BTC stesso Ritirabile anche su un hardware wallet Diverso infatti quando andiamo ad operare sui contratti e margin trading Che noi andiamo appunto a operare non tanto sulla versione spot E non sono ritirabili quei BTC che andiamo ad acquistare Perché appunto stiamo andando a speculare proprio sulla natura dei contratti stessi Comunque questa è la situazione dello spot trading Qui a sinistra abbiamo tutte le varie coppie che possiamo andare a tradare Per esempio sul mercato spot Se ci fate caso abbiamo tutte le criptovalute a confronto O messe come collaterale su USDT ovvero Tether Qui abbiamo logicamente un'interfaccia molto molto simile a quella che potrebbe essere TradingView In realtà se vogliamo proprio quella di TradingView possiamo cliccare qui E possiamo andare a fare le nostre analisi magari tracciare trendline Misurare varie varie robe eccetera eccetera Proprio come se fosse TradingView effettivamente Possiamo cambiare time frame Qui a destra possiamo trovare l'order book Vedere appunto come sono posizionati le varie persone proprio relative che operano su OKEX Ma la parte più importante logicamente è qui sotto Ovvero il box dove possiamo andare ad azionare la nostra operatività nel dettaglio Per esempio vogliamo operare a mercato dobbiamo cliccare sul mercato Ovvero lui ci andrà ad aprire proprio nell'esatto momento in cui andremo a cliccare acquista o vendi Il nostro ordine appunto a mercato stesso Al prezzo corrente di mercato Per esempio vogliamo entrare con 1000 USDT Clicchiamo acquista BTC più facile di così non era possibile Poi logicamente possiamo impostare sia il take profit che lo stop loss Cliccando e fleggando queste due caselline Viceversa se vogliamo andare ad operare al limite Ciò vuol dire se noi vogliamo impostare un limit order o uno stop order Possiamo appunto settare i vari parametri attraverso le varie caselline E di conseguenza cliccare e fleggare take profit stop loss a nostro piacimento Andiamo sulla sezione contratti e margin di trade Sempre in relazione al trading di base abbiamo la possibilità di andare ad operare sulle opzioni semplici Ad esempio se noi pensiamo che BTC aumenterà in un prossimo lasso di tempo Possiamo cliccare per esempio la freccetta in su Andare a decidere a che prezzo crediamo possa ad arrivare proprio BTC E acquistare una opzione call e viceversa un'operazione put Se invece prevediamo che in questo caso BTC crollerà di prezzo Anche qui molto molto semplice Sempre nella sezione trading possiamo andare ad operare nel mercato dei contratti e margin trading Stessa cosa rispetto a prima però qui andiamo ad operare in modo leggermente diverso Perché abbiamo la possibilità di operare come potete vedere qui a leva Una leva che arriva fino a 125x Ragazzi fate moltissima attenzione perché la leva sappiamo benissimo che è un'arma a doppio taglio E può come essere amica può essere anche il nostro nemico peggiore Possiamo operare in margine cross o isolato Io consiglio sempre isolato in modo che noi andiamo a perdere soltanto quel che noi abbiamo allocato a quella determinata operazione Qui ricordo ragazzi che andiamo ad operare sui futures e sui contratti a margine e non a livello spot Tutto sommato poi l'interfaccia rimane come la sezione dello spot trading Cosa molto interessante sono i bot di trading Clicchiamo su bot di trading Possiamo vedere che ci dà una panoramica generale E comunque voglio approfondire in un altro video proprio relativo ai bot di trading su OKEX Dove possiamo vedere che abbiamo 229.480 trader bot globali Ciò vuol dire presenti attualmente che stanno operando all'interno del mercato Abbiamo 3,54 milioni di contrattazioni su bot globali E un guadagno totale generato dal trading bot Da tutte le strategie di trading bot ovviamente Di 35,26 milioni Numeri abbastanza interessanti In questa casella qui abbiamo la possibilità di andare a decidere Se un bot dollar cost averaging molto interessante Soprattutto nelle fasi di accumulo Se scegliere appunto i bot di arbitraggio Uno slicing bot o un bot a griglia La cosa interessante e questo ovviamente soltanto per i più esperti È che possiamo andare noi stessi a crearlo in base a dei parametri Che noi vogliamo andare ad attuare sul mercato Per chi invece non sa come andare ad operare attraverso i trading bot Ma vuole copiare quelli magari di un'altra persona Ovviamente può andare sulla sezione sempre trading Bot di trading Ma invece che cliccare sulla casella generale Cliccare su marketplace Cliccando su marketplace abbiamo la possibilità di decidere Innanzitutto filtrando la tipologia Proprio del trading bot Per esempio mettiamo su una griglia dei futures Ok o un dollar cost averaging spot Possiamo andare ovviamente a decidere in base a vari parametri Che noi dobbiamo mi raccomando controllare nel dettaglio Prima di andare a copiare al cieca un determinato bot Perché sappiamo benissimo che i bot possono essere nostri amici Proprio nella operatività Però in realtà stiamo sempre parlando di intelligenze artificiali O meglio di sistemi di trading automatico Ciò vuol dire non hanno un cervello per pensare Quando magari è meglio chiudere in base a varie notizie macroeconomiche O di carattere fondamentale Quindi ragazzi attenzione Siamo sempre noi che dobbiamo andare poi a decidere quando staccarli Aumentare il leveraging o l'esposizione stessa Comunque potrebbero essere molto molto interessanti E possiamo appunto scegliere attraverso questa sezione qui Un'altra cosa interessantissima soprattutto per chi ha le prime armi E lo consiglio tantissimo È il trading demo Infatti se andiamo sempre su trading Clicchiamo su trading demo Abbiamo la possibilità di operare con un capitale finto E di conseguenza non rischiare di andare a perdere il nostro Che senso ha una cosa del genere? Molto semplicemente se vogliamo esercitarci Dal punto di vista dell'operatività sul trading di criptovalute Come potete vedere ci ha switchato proprio tutta la piattaforma In demo trading Infatti ci dà la casellina qui E ce ne accorgiamo appunto da qui in cima Torniamo indietro perché voglio continuare la panoramica proprio di OKEx La sezione ERN molto interessante Ci dà appunto la possibilità di andare a guadagnare Proprio dal deposito delle nostre criptovalute Per esempio se noi abbiamo delle criptovalute prese, messe lì, stagnanti E decidiamo appunto che il momento storico in cui stiamo vivendo È ottimale per andare a depositare delle criptovalute sugli exchange Possiamo andare a farle fruttare soltanto depositandole proprio In questa sezione della piattaforma di OKEx Per esempio Qui infatti possiamo vedere Ce l'elenca in base alla tipologia di asset Ci dà la possibilità di andare a fare ERN Proprio con un, per esempio, un APY del 10% Con un tasso flessibile o fisso E qui appunto ci dà tutte le possibilità per andare a farlo Infatti come potete vedere Ci dà anche la possibilità di operare in DeFi Infatti attraverso SushiSwap, Compound e altre vie di investimento Ultima ma non meno importante è la sezione Academy Infatti ci dà in relazione proprio a vari tutorial Trading Ideas, Industry Analysis Ci dà appunto la possibilità di studiare il mercato delle criptovalute Soprattutto per chi è poco avvezzo sull'investimento in criptovalute Cosa non poco importante è la sezione delle Proof of Reserve Dove OKEx ci certifica in qualche modo Di detenere almeno i nostri asset uno ad uno Può sembrare una cosa scontata Ma con quello che è successo su FTX Non è assolutamente una cosa da sottovalutare Per effetti questo video abbiamo fatto una panoramica generale Relativa proprio all'exchange centralizzato di OKEx Ti lascio il link qui sotto in descrizione Per ricevere il 5% di sconto sulle trading fees a vita Inoltre la possibilità di ricevere una mystery box Che va fino a 10.000 dollari Soltanto se vi iscrivete attraverso il link Che lascio qui sotto in descrizione Se non l'avessi ancora fatto Ti chiedo di supportare il canale Lasciando semplicemente un like E iscrivendoti al canale stesso Per gli iscritti Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao